Non parlare di un'altra telecamera che te senta? Ti metti all'angolo, ti devi proprio metterlo all'angolo perché così ti ho lasciato il mio visuale libero perché se no non si vede niente. Vai a mettere avanti. Grazie a tutti. 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 Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Buone. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.